Chiara Ferragni e il cambiamento dopo l'addio a Fedez. Chiara Ferragni sta attraversando una fase di rinnovamento personale e ha scelto un approccio diverso per affrontare le sfide recenti, specialmente dopo la chiusura del suo matrimonio con Fedez. La nota imprenditrice digitale ha condiviso sui social media foto e messaggi significativi, che riflettono la sua decisione di affrontare le difficoltà con un nuovo spirito. Chiara Ferragni sorprende con un messaggio social. Negli ultimi giorni, la Ferragni ha postato alcuni scatti della sua vacanza a Forte dei Marmi, dove appare in compagnia di amiche e impegnata in attività sportive come il tennis. Contestualmente, ha condiviso messaggi che indicano una chiara volontà di voltare pagina dopo la fine della sua storia con Fedez. In particolare, una delle didascalie, recita. Beat your life with a smile on your face. Morsica col sorriso la tua vita. Tra le immagini pubblicate, Chiara ha aggiunto una frase che rispecchia il coraggio e la determinazione con cui intende affrontare il futuro, nulla deve essere, accettabile. Si inciampa e le ginocchia cedono perché è la vita. Rialzarsi e riaffrontare le difficoltà con coraggio e cocciutaggine, rende entusiasmante la vita. Corri ragazza, corri. Morsica col sorriso la tua vita, le parole condivise dalla Ferragni, hanno evidenziato il suo desiderio di lasciarsi alle spalle le recenti difficoltà. La reazione del pubblico è stata per lo più di supporto e incoraggiamento, con molti fan che hanno espresso il loro sostegno. Alcuni commenti di apprezzamento includono, Chiara, così ci piaci. Sincera e genuina, fatti forza e tutto tornerà a splendere, e, ti stai riprendendo in mano la tua vita in una maniera meravigliosa. Grande Chiara, siamo con te, da anni e anni sempre al tuo fianco. Un bacio alle tue ragioni di vita, Leo, Vitto.